C'è una questione di cui vorrei parlare perché mi preme. Chi io creda di essere? Perché per quanto io mi esprima non riesco mai a essere sufficientemente chiaro. Io mi intendo una duplicità di presenza. Una è un personaggio che non è opera mia, fa parte di un disegno. Il personaggio si chiama Romano Antonio Anna Paolo Torquato. Un altro è chi lo anima. Chi anima il mio personaggio è la stessa persona che anima ogni altro personaggio. E io sono questa persona. Quindi nella mia essenza profonda io sono esattamente l'essenza che anima anche ogni altro personaggio. Quindi non vi è alcuna persona tra l'essenza mia e l'essenza di qualunque altra persona che esista al mondo, per intelligente o stupida che possa sembrare essere. Quindi sotto questo aspetto, su chi io mi creda nel mio essere profondo, io sono il più umile che esista. Perché riconosco di non essere proprio niente di più e niente di diverso di chi anima ogni altra persona. Però ciò non mi fa chiudere gli occhi su chi sia il personaggio che è stato assegnato a me. Perché se io non mi rendessi conto, proprio io, del livello che è stato destinato a questo personaggio, sarebbe strano. Perché io il personaggio lo vedo da dentro, lo conosco profondamente in tutti i suoi risvolti possibili e immaginabili. Perché è stato quello che è stato assegnato alla mia osservazione, alla croce di me stesso. Perché c'è una distanza abissale tra quelle che sono le vocazioni del mio spirito e quello che poi io vedo esistere nel personaggio. che spesso è ruvido, è grezzo, è assolutamente privo di elasticità, è puerile, è preda delle passioni, è umano sotto l'aspetto, certe volte anche più deleterio. Io vedo tutto ciò nel mio personaggio, ma mi è impossibile non scorgere quello che invece è impossibile scorgere a tutti gli altri. Perché io, che lo conosco a fondo, posso essere assolutamente convinto che è il personaggio più geniale, tra tutti i filosofi che sono esistiti finora, è il personaggio più grandioso e geniale, nuovamente, sotto l'aspetto dell'osservazione di quella fisica che è saputa osservare anche se non è conosciuta tutti quei dettagli fisici con i quali la conosce un laureato in fisica che poi fa lo sperimentatore della fisica, mentre la educazione del mio personaggio è stata quella di un architetto che ha affrontato, è vero, esami di un tempo che nell'architettura richiedevano anche la conoscenza della fisica, della chimica, della mineralogia, della matematica applicata proprio alla parte specifica dei gradi di libertà, dei vincoli, la meccanica razionale. Tutti questi aspetti, uniti e fusi in una cultura generale di tipo architettonico, ha portato il personaggio che da alcuni molto vicini a me è accusato di avere tradito la sua vocazione di architetto, avrebbe potuto essere un bravo architetto e invece si è perso in queste questioni così così così, l'ho portato secondo me al livello più alto dell'architettura che si esprime proprio quando essa porta alla scoperta dell'architettura della realtà. Affermare che il mio personaggio abbia scoperto l'architettura della realtà significa affermare delle cose che poi devono essere spiegate. Come può essere l'architettura della realtà? L'architettura non è solo una questione formale, è una questione anche sostanziale perché disegnare un bel grattacielo che poi non stia in piedi non è una questione veramente risolta sotto il profilo dell'architettura perché l'architettura è l'ideale connubio della forma anche con la sostanza di una struttura che si regge e è fondamentalmente in piedi. Ebbene, la struttura essenziale, diciamo l'impalcatura, la forza dell'architettura, della realtà sta nella forza dei numeri. Il calcolo è un qualcosa che, mentre richiede impegno, forza a noi che lo facciamo è la scoperta di una verità che esiste senza alcuna forza per esistere. Quando io dico 10 diviso 9 uguale 1,1111 per l'infinito io sto mettendo in evidenza sì l'operazione di un calcolo ma esso corrisponde ad una verità che esiste senza bisogno di nessun calcolo che sia calcolata. È vera, da una parte c'è il rapporto tra 10 e 9 dall'altra parte esiste già tutto per quanto sia infinito questo 1,1111 all'infinito che in un calcolo reale non può essere mai raggiunto ma che invece è già contenuto nel rapporto ben definito tra il numero 10 e il numero 9. Ma se io non spiegassi perché questa è la struttura fondamentale della nostra realtà non spiegherei nulla. La nostra realtà è infinita e il risultato di questo calcolo è infinito. Noi siamo nella condizione straordinaria di un universo che ci sconvolge perché non ha alcuna fine e nel nostro mondo che è definito sembra inverosimile l'esistenza di un qualcosa che non abbia fine. Ma quando io vi mostro la struttura del calcolo di 10 diviso 9 che è infinita e allora vi potete rendere conto che esiste una verità fondamentale che sostiene la visione infinita del nostro universo nello spazio sempre più lontano così come ci si allontana sempre più dall'unità a mano che dalla virgola noi ci spostiamo infinitamente nella direzione di un calcolo sempre più minuzioso, sempre più approfondito. Se io non vi dimostrassi anche a cosa porta un calcolo di questo tipo formalmente io vi avrei dimostrato solo l'ossatura di questo grattacielo e non la sua forma. Ma la sua forma, io ve l'ho indicata, è quella di un frattale. Il frattale è una visione in cui è aggiunto un decimo ogni volta. Ogni volta un decimo. Esattamente come nell'operazione di 1,111 in cui ogni volta si aggiunge un decimo. L'aggiunta di un decimo porta nella superficie della visione a un movimento tra la visione di un decimo e la visione inflazionata di un decimo successiva. Noi vediamo che i frattali ci sembrano un'avventura di tipo diveneristico in cui c'è un divenire e ci si approfondisce sempre più nella visione. In certi frattali si vede come una nebulosa in lontananza e poi ci si avvicina e questa assume forma e a mano a mano che avvicina si differenzia e sembrano che appaiano le parti di questa nuvolosa. e poi noi ci possiamo adentrare in un punto della nuvolosa e è un viaggio di avvicinamento sempre più, sempre più. Ebbene, nell'operazione 10 diviso 9 a un certo punto di questa profondità di campo che si è conquistata il campo si restringe a quello della visione che noi abbiamo in questo momento. Per cui quella vita complessa che ci appare davanti non è altro che la definizione così approfondita di questo frattale che assume la presenza di una vita. Perché accade che nel fronte, a mano a mano, che certe relazioni diventano intricate, si fissano dei rapporti conservativi che sembrano vita autonoma e si accorpano in una vita autonoma che è sensata perché il calcolo 10 diviso 9 è sensato, ha una sua verità e questa verità quando si concentra in un gruppo di dati diventa una vita che appare nella sua verità e se noi andiamo a indagare sempre più a fondo scopriamo la verità nel complesso di quella verità e in un pesciolino che vediamo correre scopriamo tutte le parti sostanziali che costituiscono questo pesciolino. Insomma, arrivare alla struttura della realtà, all'architettura della realtà e alla forma della realtà, facendo capire in un modo così evidente, è un risultato che implica un genio perché arrivare alla sintesi del 10 diviso 9 che porta a tutto ciò occorre una grande capacità geniale di ricondurre tutto proprio al fondamento ma occorre anche la capacità di spiegarlo perché da 10 diviso 9 accadrebbe questo? E io l'ho spiegato perché 10 è il valore assunto dall'assoluto quando si è calato nel relativo l'assoluto indeterminato per calarsi nel relativo aveva la necessità assoluta di determinare un valore che fosse, seppure nel campo relativo, l'espressione del valore assoluto e questo valore assoluto è stato assunto dal ciclo di 10 unità. 10 elevato a 1 messo in riscontro al suo valore inverso dato da 10 elevato a meno 1. Quando noi poniamo in essere queste due opposte presenze delle due opposte frazioni di cui una è 10 su 1 e l'altra è 1 su 10 e noi le moltiplichiamo otteniamo 10 decimi otteniamo l'unità ma è una unità che è articolata nei suoi valori opposti e quando noi decidiamo di vedere la differenza che risulta tra questi due valori opposti 10 e 1 scopriamo che la differenza è il 9 e questa è tutta l'energia esistente tra il padre e il figlio esiste questo valore 9 che è estrinsecato dai due valori assoluti di 10 e di 1 è il valore che porta alla cosa in sé estrinsecata dai due valori assoluti per cui quando si parte dal tutto ossia dal 10 e lo si divide per 9 lo si espone proprio in quella forma che è contenuta tra i due valori assoluti ed è quella forma reale di conseguenza noi esprimiamo il 10 nella forma di una realtà unitaria che è data da 9 a 1 e quindi messo l'assoluto nella forma unitaria assunta nel relativo il risultato porta a questo apparire di un mondo infinito nello spazio infinito nel tempo da tutte le parti perché noi andiamo verso l'infinito futuro a mano a mano che l'operazione prosegue ma abbiamo il potere di ritornare dalla condizione del presente in cui siamo in un certo momento verso il suo virtuale antefatto basta moltiplicare questa volta per 9 e anche in questo caso partendo da un qualunque valore 1,1111 moltiplicato per 9 noi non arriveremo mai al 10 perché arriveremo sempre a 9,9999 e quanto più partiamo in un numero enorme tanto più arriviamo a un numero enorme di 9,9999 e quindi dalla nostra condizione di presente siamo in condizione di idealizzare un infinito futuro in un verso e un infinito passato nell'altro inverso è un passato assolutamente coerente perché è legato al risultato unico di una operazione matematica per cui se io ho un'operazione matematica che eseguita mi porta a costruire la visione sempre più nel passato di quello che sembra un presente lontanamente originario esso è infinito e posso costruire tutto quello che esisteva addirittura prima della comparsa dell'uomo sulla terra il potere dello spirito umano di costruire la visione di un mondo prima ancora che egli esistisse come se fosse vero tutto questo divenire formalizzato da questa operazione ma voi sapete bene che la verità di questa operazione sta solo nella operazione sta solo nel risultato 1,111 e nei fronti trasversali che passano da 3x3 a 33x33 a 333x333 e crescono anche essi in modo infinito divenendo un valore sempre più inflazionato che a un certo punto tra due settori stabilizza un quadro 100 e una certa serie di numeri che sono sempre quelli però sempre più distanziati da zeri che si aggiungono ecco l'inflazione di tutto ciò determina l'inflazione che noi stiamo vedendo come il nostro frattale ecco essere arrivati a questa percezione dell'architettura della realtà è stato un successo che non è stato conseguito mai da alcun filosofo ma da un filosofo della scienza che non parte da verità ideali non riscontrate parte da una verità assoluta che è quella matematica e poi mostra in quale modo ideale l'intelligenza dell'uomo adotta certi numeri certi algoritmi per costruire l'immagine di un ciclo dieci relativo ad un oggetto per esempio che esaminato nei vari rapporti possibili nel dieci che sono per esempio il nove a uno l'otto a due il sette a tre e così via attraverso ogni rapporto consente di idealizzare una qualità per cui accade che quell'oggetto ha sette qualità simultanee ha la sua forma assunta nella massa ha la sua forma assunta nel tempo nello spazio nel flusso reale nel flusso termico nel flusso molecolare e nel flusso che si esprime nei sette vincoli della sfera a cui io posso arrivare appunto perché io so per gli elementi di geometria e di meccanica razionale che la sfera ha sette vincoli ha i sei del sistema ortogonale e poi c'è il vincolo in più del raggio sempre costante io sapendo tutti questi vincoli arrivo a una idea che poi è trasformata in qualità di mondo che mostra su che base noi poi noi con il nostro cervello visualizziamo riuscire con la verità della matematica e le forme con le quali con l'intelligenza trasforma algoritmi in differenti qualità di vita è una cosa talmente geniale e talmente mai fatta prima che se l'uomo fosse a conoscenza di quello che conosco io che ben conosco questo personaggio direi ma questo personaggio ha compiuto una cosa che non è mai stata fatta da nessuno poi c'è un altro aspetto nella semplice filosofia quando mai la filosofia è riuscita a risolvere il problema di un mondo non squilibrato giusto perfetto tutti hanno rilevato di questo mondo soprattutto il caos la lontananza sempre più dalla giustizia sotto il profilo anche morale c'è stato un filosofo che è riuscito a spiegare in che modo questo mondo per esempio fatto da un Dio buono possa essere la soluzione giusta di questa bontà è mai stato c'è mai esistito un filosofo che è riuscito a dire perché chi lavora tutto il giorno e chi lavora solo l'ultima ora come disse Gesù è giusto che riceva la stessa ricompensa c'è mai stato qualcuno lo stesso Gesù disse perché volete impedire al padre di essere buono ma sembra che questa bontà non corrisponda poi alla giustizia com'è possibile far collimare la giustizia con l'amore ci hanno provato tutti i filosofi e tutti quanti hanno detto se si eccede in amore si pecca poi in giustizia se io perdono l'assassino e poi io non attuo quella giustizia che vorrebbe condannato l'assassino queste due cose sono inconciliabili tra di loro e viene un filosofo chiamato Romano Antonio Anna Paolo Torquato che arriva a dimostrare invece l'assoluta giustizia in che modo dimostrando quello che risulta alla fisica già alla fisica risulta che il nostro mondo è complesso è fatto di materia e antimateria di magnetismo e del suo opposto che è il flusso elettrico già il nostro mondo è definito binario già si sa che azione e reazione esistono entrambi e sono simultanee ma occorreva proprio un genio per arrivare a dire che se sono opposti che interagiscono devono valere più uno moltiplicato per meno uno e essendo meno uno il risultato il nostro mondo non evolve ma devolve perché è disegno negativo e poiché noi stiamo vedendo una evoluzione di tipo positivo noi stiamo vedendo una contro evoluzione ossia una devoluzione noi non stiamo vedendo l'annichilimento della materia indotta dal magnetismo in un punto unico senza alcuna dimensione come se fosse stata risucchiata tutta in un buco nero non riusciamo a vederlo perché possiamo vedere solo quello che è esattamente opposto al magnetismo ed è l'espandersi elettrico opposto all'annichilimento dell'antimateria che è la materia che si espande e arriviamo a vedere la fuga delle galassie fatte di materia e di luce e arriviamo a dire nei geni di questo mondo quando scoprono il big bang oh esiste un grande botto perché nella gravitazione universale dell'universo tutto dovrebbe andare verso il centro ma noi vediamo tutto che va verso la periferia perché evidentemente c'è stato un momento iniziale di ribellione contro tutto ciò e l'universo è esploso in questo grande botto ma questa è ancora una volta l'assoluta mancanza di coerenza che poi diventa geniale in chi fa capire l'incoerenza estrema di chi non si rende conto e giace ancora in una visione tolemaica dell'esistenza che è quella di portare a credere vero quello che vedi senza calcolare che questo che stai vedendo è la reazione e non l'azione fino a quando non consideri la complessità dell'esistenza e vedi solo l'espansione delle galassie non arrivi a capire che la verità è esattamente quella uguale e contraria dell'antimateria che si sta annichilendo verso un punto centrale in cui poi tutto esiste in potenza scoprire il vero laddove è definito è ben definito perché sono secoli ormai che la fisica conosce il principio fondamentale il terzo di azione e reazione ma perché finora non ha mai fatto il calcolo di più uno meno uno scoprendo che la reazione tra loro è meno uno e noi vediamo più uno solo perché stiamo vedendo in modo uguale contrario e quindi noi vediamo l'evoluzione perché c'è una devoluzione nell'inverso ma sono la stessa cosa vedere l'evoluzione della materia e dell'elettricità significa vedere la devoluzione di quanto gli è opposto ma occorreva un genio per arrivare a capire allora che la verità del nostro mondo è che si sta annichilendo sta tornando verso un punto iniziale in cui tutto esiste in potenza il modo in cui noi stiamo vedendo arrivare in un certo senso con un certo timore a quel momento del calendario maia che dice che è la fine del tempo e che sembra esploso sempre in questa linea dell'espansione delle galassie potrebbe essere rientrare in quel punto originario da cui tutto poi veramente comincia ma noi sappiamo benissimo che la visione che è in atto ora ha un infinito passato possibile e un infinito futuro possibile per cui non esistono questi termini così perentori e così fissi però esiste il movimento quello giusto è quello visto in modo uguale al contrario e il movimento giusto che noi stiamo vedendo è la devoluzione per cui noi stiamo vedendo un male che si annulla un bene reale che si annulla e possiamo benissimo capire a questo punto che Dio è buono perché ci toglie l'abito reale che poi è quello che si consuma lo mangiano le tignole come diceva Gesù per darne uno ideale poggiatosi i valori ideali della idea della mente e non di questa realtà che è vista facendo esplodere il calcolo 19 10 diviso 9 questo calcolo è sempre quello e è sempre visitabile ma l'importante è che il soggetto umano l'anima umana arrivi a questo valore in potenza in grado di esaltare un suo modo di vedere perfino Dio e Dio aveva la necessità di essere un Dio che avesse ogni tipo di apertura mentale determinata e allora si è determinato in tutti i modi possibili e immaginabili in santi e immalfattori e in tutte le combinazioni tra i santi e i malfattori e sempre Dio ha data la libertà assoluta a ciascuno di questi di partire dalla sua croce superare in assoluto quella croce idealizzando il Dio di quella croce e quindi avremo un Dio assoluto che è il valore integrale di ogni Dio della croce di ogni Cristo che esiste per cui il Cristo storico che noi vediamo è l'esempio fulgito di quella opera che accade in ciascuno di noi in ciascuno di noi Dio assoluto ha assunto la croce del suo personaggio per superare quella croce ma io sto parlando della croce del personaggio romano Amodeo premesso che l'osservatore è sempre quello e che io non sono romano Amodeo io che vi esprimo i miei concetti perché io sono l'anima che sta dentro romano Amodeo che ha messo da parte il personaggio ed è uguale all'anima di ognuno di voi e quindi torta di mezzo ogni presunzione di essere io più di voi diverso da voi torto di mezzo tutto questo ma io osservo le conquiste fatte da questo personaggio ha saputo dire perché è giusto che sia il buono sia il cattivo si vedono annullare quella sorta malefica di vita che stiamo vedendo perché è un inferno nasce e poi muore tutto si consuma un bel bambino un bel animale eccetera è portato a divenire una bestia feroce spesso che si mangia l'un l'altra questa è la vita la corrosione progressiva del bene ideale di una innocenza nel momento in cui uno nasce per vederla poi fiorire o nel bene o nel male divenendo un santo o un malfattore ma Dio mentre ti fa vedere tutto ciò è partito dalla tua presenza totale di tutta la tua vita già disegnata che per te c'è nel momento della morte e te l'ha fatta arretrare fino al momento della vita secondo il percorso negativo per fartela vedere poi nel modo positivo di un apparente farsi da parte dell'uomo della sua libertà perché vedete le cose sono simmetriche se Dio agisce su tutto e nel modo giusto riconduce tutto all'unità la stessa cosa vista nel modo inverso sembra apparentemente libera in tutte le sue unità di evolvere tutte in relazione alla loro apparentemente libera individualità un mondo appare assolutamente libero e privo di Dio l'altro mondo è tutto costretto da Dio ma noi vediamo questo mondo apparentemente indipendente da Dio perché stiamo vedendo proprio l'opposto del mondo comandato solo da Dio e comandato da Dio a fin di bene a fine di creare una infinita gamma di persone personaggi tipi tutti infine vittoriosi in base alla loro libertà al rispetto che Dio ha avuto per il loro spirito tanto assoluto da non imporgli una un modello certo che gli darà nel corso della vita vari modelli che sono le fedi ma non sono fatte per castrare la libertà dello spirito santo di ciascuno ma per aiutarlo per favorirlo per dargli esempi da cui partire fondamenti su cui costruire poi ciascuno il suo libero palazzo Dio dà solo le fondazioni con una fede o con l'altra perché poi è tutta una questione dell'uomo libero che parte a partire dal fondamento della fede che ha ma non è la fede che ha che lo salva lo salva la libertà che ha ricevuto perché quella libertà che ha ricevuto e che sembra assolutamente un fatto tutto suo è invece tutta comandata da Dio quando dal disegno interamente fatto esso è ricondotto al suo esistere impotenza e da un mondo che appare esistere realmente ed essere tutto fatto tutto questo rientra nell'idea assoluta pura e spirituale di Dio noi grazie a tutto ciò siamo stati messi in condizione di esistere nel nostro io semplicemente perché Dio ci ha concesso il libero arbitrio di pensarla a modo nostro ecco noi abbiamo questa libertà e non contrasta assolutamente quella di Dio ma quando mai avete avuto un filosofo che vi ha saputo spiegare le ragioni per cui la libertà umana non è mai 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 contro alla volontà di Dio ve l'ha mai saputo spiegare qualcuno ma questo filosofo romano lo fa perché se vi dice che esiste un disegno già fatto quindi completo che è ricondotto sempre al suo prima al suo prima al suo prima fino al suo inizio di tutta la storia ma poi voi lo vedete nel modo inverso che lascia credere che tutti i singoli personaggi di questa storia sono liberi ecco che la visione del mondo soggettivo individuale individualistico libero è la stessa visione del mondo assolutamente costretto e obbligato da Dio allora Dio che cosa fa? cosa costringe? costringe la visione di una vera libertà voi avete la vera libertà ma non è quella di fare il mondo di fare voi stessi la libertà che ogni uomo ha è quella di fissare egli che è stato creatura di Dio l'idea del suo creatore perché quando io partendo dalla croce che io ho avuto arrivo a idealizzare il Dio che la cancella io partendo da una croce relativa avrò idealizzato un Dio relativo il modo con il quale egli vince la mia croce contrasta anche con il modo con il quale lo stesso Dio vince un'altra croce contrasta ma il bello è questo che da tutti i contrasti poi di questi Dio reali perché costruiti su base reale della croce reale di ciascuno diventano fusi insieme nell'unità e perfezione di Dio questa è la straordinaria bellezza di tutto il disegno contenenti luci ed ombre guai se ci fossero solo luci avremmo una tela bianca guai se ci fosse solo mancanza di luce avremmo una tela nera guai se non ci fossero i colori se non ci fossero i toni Dio dà modo a tutto di esistere ed ecco che ne viene fuori il bellissimo quadro del mondo che noi abbiamo davanti che è un quadro bellissimo che sembra tragico perché vi si compie il male e si vede compiuto e quando ci si rende conto che invece è Dio che toglie via quel male che sembra compiuto allora si arriva a capire quanto Dio ci ami e ci voglia tirare fuori da questo disegno reale per ricondurci come figli in quell'ideale di Dio in cui poi ogni spirito nostro che vi ho detto è uguale però sarà caratterizzato dalla idea che avrà voluto assumere come il suo ideale qui ci saranno le differenze e ci saranno tutti i possibili figli di Dio tutti figli di Dio differenti forse dal padre niente affatto perché sempre padre e figlio sono la stessa cosa di conseguenza se al mio personaggio Dio ha concesso il ruolo del personaggio del padre che è il padre unico di tutti gli uomini e poi ha creato in ciascuno di voi l'infinita gamma di personaggi figli ha fosse fatto un'ingiustizia perché il padre è uno e i figli sono un infinito assolutamente no perché ogni padre e ogni figlio sono la stessa immagine di un Dio assoluto e onnipotente che non è solo indeterminato ma è anche determinato e quando è determinato in tutti i modi possibili e immaginabili in cui è determinato in ogni figlio ecco la perfezione ideale di un Dio assoluto ma quando mai voi avete avuto un personaggio che vi ha saputo spiegare la verità di tutto ciò togliere di mezzo tutte le ingiustizie che esistono tutte le colpe che sono assegnate a Dio quando mai in filosofia in storia nella scienza mai e ci è arrivato in un modo che è apparentemente legato solo alle sue forze contrastato da tutti e gli ha avuto i parenti prima di tutti quelli che gli volevano bene che gli sono andati contro ma perché Romano ti ostini in questa vita irrazionale irragionevole tu ora hai 35 anni hai già raggiunto l'apice di te stesso perché sei un architetto affermato sei un ente importantissimo della Lombardia sei a livello massimo tecnico di una struttura di un consorzio di 80 comuni sei il direttore di una rivista di architettura sei un costruttore sei pieno di desideri di voglia di esprimere l'arte in tutti i modi possibili immaginabili e lo sport in tutti i modi possibili immaginabili sei un soggetto così vivo e perché metti una croce su tutto ciò e vuoi fare il cristiano abbandoni tutti i posti di prestigio che hai conquistato e ti vuoi mettere all'ultimo posto per servire l'ultimo perché avendo raggiunto un benessere economico una certa condizione che ti dà il modo di essere un giovane ricco tu fai come ti ha detto Gesù se vuoi essere perfetto abbandona tutto quello che hai e seguimi ma perché fai così e noi chi siamo questa domanda fatta da mie moglie da mie suocera soprattutto da mie suocera quando io dicevo che vivevo questo per il bene del prossimo io amavo il mio prossimo e lei che vede che dall'amore mio per il suo prossimo in un certo modo loro sembrano amati meno mi domanda e noi chi siamo e io io sono pronto a perdere tutto quello che ho per il bene degli altri perché non lo considero più un bene mio mi è stato messo nelle mani perché lo metto a servizio degli altri sì romano ma noi chi siamo non facciamo parte anche noi di questi altri e poi perché ci costringi per l'amore che abbiamo verso di te a seguirti in questa opera che ti porterà solo a perdere tutto a essere uno sconfitto perché vai verso questa tua croce e ho avuto sempre tutti quelli che mi amavano contro ma l'ho avuti non un anno due tre tanti e perché questo personaggio ha insistito ha insistito contro avendo contro anche queste istanze ragionevoli perché quando un tuo familiare ti dice bella fregatura ho io nel volerti bene mi costringi a divenire povero assieme a te a perdere quello che ho perché per aiutarti io devo aiutare una causa persa in partenza perché mi costringi ma io dicevo loro guardate che io non vi costringo affatto se qualcuno vi costringe è l'amore io non vi obbligo ad amarmi ma se mi amate questo non è un vostro difetto è un grande pregio se mi amate sapendo che il vostro amore nei miei confronti vi porterà vi porterà a essere solidali con il disastro verso il quale io apparentemente vado io non vi coinvolgo verso un qualcosa che è cattivo perché vedete Gesù quando disse ai suoi apostoli e sarete tutti accusati di essere miei sostenitori e farete la mia stessa fine era perché li amava e sapeva che in questo mondo chi si abbassa è chi veramente poi salirà in eterno e accettava per amore verso chi lo amava senza neanche capire che cosa stava facendo che impoverendo assieme a lui si abbassava e sarebbe stato alzato in eterno questo personaggio romano modeo è andato avanti sempre da solo non ha avuto non ha avuto alcuno che lo ha incoraggiato nessuno partecipava a comunione e liberazione ma aveva un'azienda che in un certo senso non fioriva e avrebbe richiesto che la gente che lavorava per difendere il suo posto di lavoro si facesse il mazzo perché era il suo posto di lavoro e quindi questi cielini che erano all'inizio della formazione di quella compagnia delle opere mi criticavano pesantemente dicevano ma se tu tieni al loro posto di lavoro li devi mobilitare perché si diano da fare è il loro posto di lavoro non è giusto che sia solo tu a perdere sempre di più e a non sollecitarli più del giusto perché gli fai perdere il posto di lavoro e io gli rispondevo ma siete certi guardate che le cose non le fa l'uomo le fa Dio io mi fido di Dio io sono disposto al mio sacrificio per il bene degli altri ma voglio che sia il bene degli altri già ora io per il bene della mia azienda che è una sovrastruttura non voglio costringere delle persone a essere stritolate se c'è qualcuno che deve essere stritolato sono io e se a un certo punto Dio non proteggerà questa figura perché la vorrà messa finalmente in croce e queste persone troveranno la perdita di questo lavoro se ne troveranno un altro ma avranno lavorato per dieci anni in un posto in un avendo un titolare che era intenzionato a risolvere la loro vita e non a costringerla in una apparente salvezza personale che poi si traduceva nel bene della sovrastruttura della mia azienda una sovrastruttura che non esiste se non è il bene delle persone che vi operano immediatamente doveva essere il mio male semmai ma unico perché io ero responsabile nella gestione particolare che facevo questa struttura era una gestione particolare non mossa dal fine uniti vabbè quello di fare soldi ma quello di fare il loro bene per cui per fare il loro bene spesso tenevo in piedi situazioni che non erano quelle ideali per far andare avanti l'azienda e io avevo contro costoro che mi criticavano pesantemente sbagliavo secondo loro dovevo fare il mio progetto partiti dall'ideale di un Don Giussani che gli diceva non fate il vostro progetto secondo loro io avrei dovuto fare il mio progetto su di loro avrei dovuto progettare sui miei dipendenti strutturalizzandoli in modo che no assolutamente no e quando io mi sono trovato a tu per tu perfino con Don Giussani guardate perfino con lui eh perché ho avuto a un certo punto il dubbio se stavo operando bene e andai a trovarlo gli dissi Don Giussani io sto facendo così e così ma mi rendo conto che io non sono solo sono in una famiglia certo mia moglie lavora per conto suo e guadagna per conto suo e io non tocco il denaro che lei guadagna allo stesso modo lei fa con me perché ci siamo accordati in questo modo per darci reciproca libertà poi gli sforzi comuni finiscono nel nostro risultato in comune ma per la libertà che io di aderire al mio Dio io posso fare come il giovane ricco che abbandona tutte le sue cose per seguire Gesù visto che io ho una moglie o una famiglia non hanno forse ragione non ha forse ragione mia suocera quando mi dice noi chi siamo facendomi capire in parte che io non sto facendo perfettamente il mio dovere come marito come componente di quella famiglia per il bene della famiglia quello economico però Gesù ci ha chiesto fate il giovane ricco che abbandona tutto e mi segue e allora io cosa devo fare? Don Giussani non mi rispose mi disse eh ci devo pensare ne parleremo in seguito quel seguito poi non c'è mai stato però vedete nemmeno Don Giussani che diceva non fate il vostro progetto ma affidatevi al progetto di Dio è stato messo in difficoltà quando gli ho detto io seguo il progetto di Dio e non faccio il mio progetto che devo fare? non mi ha detto segui il progetto di Dio perché Dio ha chiesto al giovane ricco abbandona tutto quello che hai e seguimi c'è la tua famiglia fuori Gesù che ti cerca tua madre i tuoi fratelli Gesù rispose mia madre e i miei fratelli sono coloro che seguono quello che io sto dicendo Gesù mise dietro il valore delle cose che stava facendo sua madre pensate sua madre la Madonna fu messa in anticamera da Gesù Cristo e io avrei dovuto mettere invece davanti la mia famiglia ecco io vi ho dimostrato come la stessa chiesa è stata messa in difficoltà da me io gli sono sempre sembrato esagerato troppo integralista la vita non è una cosa così qui bisogna mediare qui bisogna tra il sì e il no ma Gesù lo disse dite sì o no perché il di più è del maligno per cui il personaggio Romano Modeo è andato controcorrente con la chiesa quella chiesa che poi seguiva con passione con amore con fedeltà confessandosi facendo penitenza chiedendo perdono per le sue colpe facendosi piccolo piccolo nonostante a poco a poco si rendesse conto di che ruolo Dio avesse dato al suo personaggio non ne ha mai fatto quel mostro di grandezza per cui davanti a un confessore si facesse grande del personaggio e gli dicesse ma insomma cosa vuoi era il personaggio che era posseduto dall'anima del Romano Modeo che si rendeva conto della croce del personaggio che tante volte era condiviso dallo spirito approvato in certi desideri di male di cose che non erano perfette proprio per quella croce che quel personaggio doveva patire e chiedeva perdono umilmente per quella croce pur sapendo che l'essenza di ogni uomo è quella di Dio ma Dio come dice Gesù è umile non si pone davanti a nessuno si inginocchia e chiede perdono alla sua creatura che ha fissato come il suo sacerdote che lo deve perdonare ecco vedete questo discorso che volevo fosse più stringato più breve ha dovuto essere così perché se io non spiegavo esattamente la differenza sostanziale tra chi io credo di essere e non vi spiegavo perché io sono esattamente ciascuno di voi per questo posso essere poi il padre perché io mi riconosco in ciascuno di voi figli dicendovi però che guardate che siete la stessa cosa con me perché padre e figlio sono parte della stessa sostanza non può esservi un padre di un figlio se non c'è il figlio e non ci può essere un figlio se non c'è il padre sono quelle due cose assolutamente legate come l'uovo e la gallina chi è nato prima l'uovo o la gallina chi è nato prima il padre o il figlio sono i due ruoli di un dio creatore che assolutamente si scindono in creatore e creatura ma non esiste creatore se non di una creatura e non esiste creatura se non di un creatore quindi la differenza tra padre e figlio è semplicemente formale ma assolutamente non è sostanziale ecco ci ho detto io vi ho poi detto guardate che io che conosco da dentro questo personaggio vi posso garantire che io non ho mai incontrato in tutta la storia umana un genio maggiore di questo tipo qui che è tanto geniale che sono solo pochi e privilegiati coloro che in questo momento stanno seguendo le cose che io dico a rendersi conto e a capire quello che sto dicendo io perché il genio di questo personaggio è tale è tanto lontano dalle cose che passano per la testa delle altre persone che sono occupate a essere fan di quel cantante di quel calciatore e non del personaggio che sta spiegando la rava e la fava dell'esistenza di Dio e perfino Dio il suo sistema di operare il suo essere uno uguale dieci decimi il suo realizzare il mondo grazie a quel dieci diviso ciò che sta in mezzo tra il padre dieci e il figlio decimo di dieci bene finisco qui perché altrimenti viene anzi è già venuto il solito pezzo lunghissimo che sembra pleonastico a tutti coloro che sono troppo frettolosi affrontano gli argomenti e poi il minuto solo che passa dopo pensano ad altro come se fossero stati lavati da una acquetta che non conta niente ma se io vi ho raccontato vi sto raccontando dell'organizzazione del mondo e non volete dedicarci un'ora guardate che il mostro in questa situazione non è chi cerca di essere chiaro ma di chi ha proprio poca fede nella sua intelligenza ad arrivare a sperare di poter capire e messo di fronte brutalmente alla sua incapacità ha troppa fretta di poter capire